Ciao a tutti, oggi prepareremo l'aroma di limone. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa più una settimana di riposo. Gli ingredienti sono la scorza di cinque limoni e vodka liscia. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo le scorzette di limone all'interno di un barattolo con chiusura ermetica. Le scorze di limone non devono avere la parte bianca. Mettere nel boccale la vodka ed azionare il bimbi per 6 minuti, 75 gradi, velocità 1. Versare la vodka nel barattolino di vetro. Chiudere. Lasciare raffreddare completamente. Successivamente riporre in un luogo fresco, asciutto e al buio per una settimana. Trascorso il tempo, filtrare e riporre in un barattolo di vetro. Aroma di limone. Si conserva in dispensa chiuso in barattoli con chiusura ermetica. Si utilizza per aromatizzare i dolci nella quantità di 1 o 2 cucchiaini da caffè. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti.